Now that you should probably get familiar My life is a jacket thriller The show ain't nothing else Man I'm a lady killer I want her, I'm a stellar I promise I could Bene, ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video Di Clash Royale Oggi siamo qua In questo nuovissimo video Perché vedete, sono uscite queste Offerte fantastiche Ma non ne andrò a comprare Per ora, anzi Credo che non ne comprerò proprio Potrei fare questo però Aspetto a 20.000 C'è il baule del clan Siamo a 8 su 10 Credo che ce la possiamo fare in due giorni E 17 ore a fare 10 su 10 Ma la cosa più importante È che è uscita la sfida Stregone elettrico E con 12 vittorie Si ottiene lo stregone elettrico Ma oltre a che ora Si può ottenere Questo stregone elettrico qua Anche se la carta non è ancora uscita Si può trovare in un altro qualunque Baule Però se si fanno 12 vittorie È sicuro che la ottieni Sarà difficilissimo Intanto i premi Anche se uno fa già 5 vittorie È tantissimo Perché i premi sono quelli della sfida grandiosa E serve creare il deck Con lo stregone elettrico Ma poi si può togliere No poi non si può togliere Però Oddio Casuale questi No sono brutti Sono brutti casuali Benissimo Mettiamo quello Poi cerchiamo di creare un po' il mio deck Facciamo così Poi mettiamo Facciamo lo stregone deck No No scherzo Ora metto un Bellissimo Principe nero Poi gli mettiamo un bello Barile Il tronco La sfera E mettiamo Una bellissima Carta Da difesa Come è Questa Però Magari Se metto questa Forse è meglio Mettiamo così Questo deck Ok Facciamo Ok E quindi si può creare Appunto lo stregone Cioè lo stregone Elettrico Ti fa usare E direi che possiamo Procedere alla battaglia Allora Se io riesco a fare 12 vittorie Cosa che Sarà difficilissimo Cioè E' pazzesco Aia Andiamo subito Di barile Lui mette il bocciatore E non è proprio Tanto buona Come cosa Oddio Lo stregone Aiuto Boom Uh è morto Allora Allora Io c'ho paura A metterlo Quello stregone Cioè Già che Lo posso usare Così E' una cosa Pazzesca Oddio Che cosa Epica No No Veramente E' troppo Bello Andiamo Di barilo Barilozzo Oddio Quanto danno Oh si Quanto danno Boom E' la sua torre Credo che Va giù Ecco Così si fa Si fa Così Ora Procediamo Ma quando c'ha di vita Con lo stregone Non c'ha niente No vabbè Lo stregone Elettrico Sembra che Non c'ha niente Di vita Oh oh No va bene Va bene Va benissimo Va benissimo No non va per niente Bene invece Invece Si meno male Andiamo Di barilozzo Goblin Qui di stregone Vai stregone Vediamo La torre Che Madò Quanto danno Bellissimo No il mastino Il mastinino Piccolino No scherzo Non è piccolino Il mastinino Oddio Che figo Cioè Avete visto Come Come corre pure È troppo forte Una carta Overpower Andiamo Di tronco Tronchetto E io mi voglio Riprendere Dopo voglio Usare Sto deck Perché è davvero Forte Guarda Quei goblin Come vengono Uccisi Male Uno Uno E li facevo Un'altra Però va bene Abbiamo vinto Comunque Vabbè Che ridi Comunque Ho vinto Da comunque Le corone A clan No Non le da Va bene Fa niente Mazzo Ok Quello E andiamo Obiettivo Sbloccato Sfida Ah si Partecipa Partecipa A 5 eventi Diversi Vero Beh Perché Ok Va bene Intanto Ah Ce l'ha un po' Di vita Quel coso Però Con la sfera Lo fa E si fa fuori Subito Meno male Che sennò Quello È troppo Forte E potresti Morire Vediamo Listerone Uh Che bello Come cammina Vediamo Boom Boom No No Pazzesco Quando colpisce Due cose C'è Qualcosa Di Pazzesco Veramente Anche se Ne sta Già Colpendo Una Con due Cioè Poi Inizia A colpire Un Inizia A colpire Anche L'altra Appena Viene Messo Cioè Troppo Epico Quindi Lui Va Di Stregone No 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 Allora Una Bella Sferina Oddio Stregone Elettrico Contro Stregone Elettrico Muoiono Tutti E due No 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 Questo Non va Bene Dai Metti Metti Mi Arrabbio Male Mi Devo Arrabbiare Metti Quello Stregone Mettilo L'ha Messo L'ha Messo Oddio Il mio Stregone Grande 166 Alla Torre Ok Si può Fare Si può Fare Oddio Andiamo Di Sfera Si può Farissimo Farissimo Si può Farissimissimo Vai Tronco 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 Grandi Grandi Andiamo a Vincerne Due Andiamo a Vincerne Due Ok Già che Ne abbiamo Vinte Due Una Cosa Pazzesca E Già Il nostro Premio Diventa Bello Direi Che Come Prima Parte Possiamo Già Finire Qui E Speriamo Di Fare 12 Vittorie Quindi Ci vediamo Nella prossima Parte